Buonasera, siamo nella prestigiosa location Listone Giordano Arena in occasione della presentazione della nuova collezione 900 che vede protagonisti l'azienda Vaselli, abbiamo qui Andrea Vaselli e l'architetto Daniele Elotti, diciamo ideatore di questa magnifica collezione. Architetto Andrea, la linea 900 rappresenta una nuova visione dell'utilizzo della pietra in generale, l'industria e l'artigianato si sono incontrati ricercando una continua innovazione dell'utilizzo di questo prezioso materiale che Andrea già in passato mi ha raccontato la storia di questa tradizione territoriale, oltre alla profonda artigianalità che è presente nel territorio senese. Avete portato una visione e un abbinamento inaspettato in questa collezione. Quali sono stati gli step fondamentali per questa realizzazione? In particolare lei architetto, come è nata la collaborazione tra lei, il suo studio e l'azienda da Vaselli? Stavamo progettando una villa a Livorno e anche alcune realizzazioni di clienti abbastanza importanti e è nata questa collaborazione. Stradafacendo sono anche i rapporti che poi si sono formati con il padre di Andrea. Parlando ci ha fatto vedere le sue produzioni. Noi avevamo introdotto all'interno di queste realizzazioni delle cose disegnate da noi, le abbiamo fatte fare e è nata una collaborazione in cui, più che collaborazione delle riflessioni, perché loro hanno una produzione e una grande specializzazione su per quanto riguarda ogni tipologia di marmo. Però all'interno della fabbrica ci hanno anche ottimi evanisti, gente che può lavorare il ferro, che in qualche maniera può tinteggiare dei cicli di produzione, quindi di tinteggiatura. All'interno di tutto questo Vaselli disse rimanemmo d'accordo di studiare un prodotto che avesse una caratteristica artigianale e che utilizzasse il ferro, il legno, cioè i tre materiali fondamentali. Andrea, il tuo pensiero? Pensiero, la cosa singolare, noi essendo azienda di produzione siamo sempre presi e rincorsi e rincorrendo il progetto e l'oggetto finito da consegnare, però sa la fortuna di trovare collaborazioni quasi per caso o meno, non lo so, come quella con Daniele, venuta quasi più, anche non sarebbe mai raccontare, però è stato lui che ha creduto prima di tutto in noi e nel progetto stesso, perché è stato merito di Daniele e dello studio, di spingerci a riflettere su questo suo concetto, perché tanto, purtroppo, per fortuna, quando sei preso dalla produzione difficilmente ha il tempo di fermarti, riflettere e capire se ci può essere delle nuove strade da percorrere. Diciamo, è stato divertente vedere, interessante vedere come un oggetto per un'esigenza alla fine di progetto, come era il primo tavolo novecento, fatto appunto che racchiudeva gli elementi di produzione che dicevi te, quindi pietra, legno e ferro, è stato reinterpretato sia per esigenze costruttive, anche commerciali, in un nuovo oggetto che ha preso delle strade che almeno io sinceramente non mi aspettavo, ci hanno sorpreso in maniera positiva, insomma, si spera che questa novità, questa anche poi l'entusiasmo che ha portato questa collezione, insomma, sia contagioso. Quali sono state le sinergie progettuali fondamentali per lo sviluppo della collezione novecento? Ora entriamo nei dettagli, quindi architetto, le sinergie sotto l'aspetto, sotto il punto di vista progettuale con l'azienda, quali sono state? Siamo partiti da quei concetti base a cui ti accennavo poc'anzi e in virtù di quello abbiamo tentato di fare un prodotto che avesse caratteristiche di produzione, diciamo, pseudo industriali, però che mantenesse le loro capacità di artigianato evoluto. Scherzando abbiamo detto facciamo una linea pop, interpretando con pop il popolare, in cui siccome loro sono bravissimi nel definire anche le superfici delle varie pietre, dalla pietra torre ai travertini, un po' a tutto, abbiamo tentato di alleggerire l'elemento pietra in cui loro sono specializzati, specialmente con i disegni delle cucine, creando questo contrasto con una base industriale, cioè realizzata in ferro. Questa base viene tutte le volte interpretata con colori diversi, i marmi uguali sono tutte le volte elementi, sono come quadri, che ogni elemento è diverso, anche se è una produzione industriale, però l'elemento quadro, l'elemento artistico tutte le volte cambia e te lo puoi vestire come vuoi perché le basi, ci sono dei colori base che nascono anche quelli dalle riflessioni toscane, perché sono i colori delle nostre ville storiche estive nei vari borghi tipo Castagneto-Carducci, Borgheri, Casale e roba varia e abbiamo preso questi colori, li abbiamo rimessi insieme e abbiamo fatto le basi a contrasto totale alleggirendo l'elemento marmo e quindi è venuto fuori un elemento che ognuno poi lo può vestire come gli pare, ecco perché è uscito, abbiamo coniugato scherzosamente l'elemento pop popolare perché prendiamo il tavolo popolare usato nei nostri cascinali o nelle nostre zone per cucinare e per mangiare e ne abbiamo fatto un oggetto un po' con caratteristiche artistiche che portasse dietro e valorizzasse molto le lavorazioni delle artigianali che loro hanno. Voglio concludere parlando della serie 900 e appunto parlando del work in progress, qual è stato il processo tecnologico nella produzione di questa collezione? in poche parole. La produzione, la base è sempre quella della loro bravura nel trattare il marmo, come tutte le pietre. Questo ha richiesto, questo disegno se vedi sembra un foglio appoggiato, gli spessori sono bassissimi, è chiaro che strutturalmente non è così, quindi parte da una lastra che loro riescano a vuotare, alleggerire anche perché i pesi sennò sarebbero notevoli sia di trasporto che di ubicazione sui solai. Quindi loro hanno questa capacità, questa tecnologia di alleggerire, di fare, cioè siamo riusciti a dare un effetto quasi di un foglio leggerissimo appoggiato. In realtà si percepisce quella leggerezza. Per quanto riguarda le strutture invece in ferro, le strutture in ferro vengono trattate con questi colori flu, alleggeriti e con queste texture che si percepiscono anche toccandole. La bravura è stata la tecnologia applicativa perché non è così semplice arrivarci, però loro devo dire che sono super organizzati in questo. Bene architetto, io la ringrazio. Andrea vuoi aggiungere qualcosa? Parlandosi quando si parla di produzione e di tecnologia, ci si dimentica spesso delle persone, si parla sempre di innovazioni tecnologiche. Però per noi, perché tutti i progetti fortunatamente, soprattutto quando sei abituato a lavorare sul custom, in un modo o in un altro, ti portano tanti giramenti di scatole, però ti arricchiscono come azienda e come artigiano. E questa sperimentazione si è fatta nella verniciatura, dalla ricerca dei texture o altro, ha permesso secondo me anche di lavorare molto sulla persona. Cioè qui è veramente tornato come si cerca di far sempre, ma qui nonostante siamo andati alla ricerca di un prodotto che strizzasse l'occhio più a quello industriale, è stato indispensabile il contributo, per esempio per fare un nome di uno senza far torti a nessuno, dell'artigiano che ha fatto la verniciatura, perché è stato un componente fondamentale nel consultarsi come azienda con l'architetto. Poi fa parte del know-how dell'azienda, però secondo me è bello vedere che in questi prodotti qui, che poi arrivano a un pubblico medio-grande, in contesti più distaccati da quella realtà produttiva, quanto il contributo del singolo poi sia fondamentale nel risultato finale. Da quello che è il progetto, l'idea del progettista, alla persona che viene qui e posiziona il tavolo. Possiamo dire che oggi il vero lusso nel mondo furniture è un ritorno al passato, un ritorno alle tradizioni, all'artigianato, è un ritorno alla riscoperta di un mondo di artigianato che sta scomparendo. Diciamo che bisognerebbe, il ritorno non ritorno all'artigianato, quanto l'approccio artigiano, perché poi si usa tecnologie, qui si è cercato di innovarsi il più possibile come comunicazione, come scelta di proposta, di allestimento, in tutto. Però l'approccio è sempre quello dell'artigiano, dove le persone, ognuno mette la sua competenza, le sue sensibilità nel prodotto finale. Finché si riesce a mantenere questo e si riesce a raccontarlo, penso che si possa essere contento. Bene, bene. Io vi ringrazio di questa conversazione in cui abbiamo visto davvero la bellezza delle sinergie che è tra il progettista e l'azienda di questo magnifico prodotto della collezione 900. Voglio ringraziare l'architetto Lotti, voglio ringraziare Andrea Vaselli e questo magnifico spazio di Stone Giordano Arena per averci ospitato e grazie a loro per questa bellissima realtà e questo bellissimo racconto.